Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati! Oggi finalmente andiamo a scoprire questa nuova collezione, ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa, credo ieri, adesso non so bene quando vi ho fatto vedere il video. Comunque abbiamo visto tutte le nuove collezioni che stanno arrivando, le abbiamo viste online e oggi iniziamo con la lancia Delta. Ve l'avevo annunciata sui miei social, come sempre insieme anche a tantissime altre collezioni sono in vaso eh! Ragazzi, quindi in questi giorni arriveranno veramente tantissime nuove collezioni e andremo a scoprirle insieme. Mi raccomando, andate a lasciare un bel follow perché io vi avviso sempre quando arrivano queste novità, è molto importante se non ve le volete perdere, insomma, e volete essere sempre precisi in edicola come faccio io. Allora, oggi scopriamo questa lancia Delta. Vi avevo già detto, proprio nello scorso video, che effettivamente sono un po' dubbioso perché la mia passione per la lancia Delta è per quanto riguarda la versione Evo. Mi piace davvero tanto di più rispetto che alla HF integrale, quindi diciamo che nonostante questo sia veramente un pezzo clamoroso, ragazzi, che cosa stiamo parlando? Questa scala 1 a 8, guardate che spettacolo. Però diciamo che sono proprio, la mia passione è per la Evo, più abbombata, più cattiva, più competizione. Quindi vi dico che se avessero fatto la Evo l'avrei fatta al 100% senza neanche pensare. Questa HF integrale invece, insomma. Comunque adesso vediamo tutto quanto insieme. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice unale in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dell'edicola dove potete trovare questa e tutte le altre collezioni che faremo nei prossimi giorni. E sotto invece vi ricordo del canale Telegram e VisioTV. Molto importante perché ogni volta che esce un nuovo video io vi lascio una piccola notifica. Quindi in questo modo non vi perderete nessuna novità. Ragazzi, banno le ciance, andiamo ad aprire questa Lancia Delta HF integrale. Ok ragazzi, eccoci qui. Lancia Delta HF integrale. Costruisci la leggenda del rally. In questo scida il fascicolo più i primi componenti, il cofano motore e le griglie del cofano. La prima, ragazzi, costa soltanto 1,99€. Adesso andiamo a vedere anche quanto costeranno le successive. Abbiamo ovviamente il fascicolino che togliamo subito così poi dopo guardiamo tutto quanto insieme. Andiamo un po', ok. E andiamo a togliere anche i pezzi così possiamo manovrare meglio il cartonato. Allora Lancia Delta Martini Racing. L'incontrastata regina del rally da costruire nella sua replica più grande, fedele e realistica. Sei campioni mondiali di rally vinti dall'87 al 92, una straordinaria serie di vittorie nelle grandi classiche dal rally di Monte Carlo al massacrante Safari. La Lancia Delta è stata l'incontrastata regina dei rally ai vertici delle competizioni più prestigiose e selettive di sempre. Modello, costruisci un capolavoro da esposizione. La Lancia Delta HF interale scala 1 a 8 nella livrea Martini Racing. Un'eccezionale riproduzione della leggendaria vittura da rally pilotata dal pluricampione del mondo Miki da costruire in ogni più piccolo dettaglio. Carrezzeria di metallo dai cast con decal, profili e appendici aerodinamiche identiche al modello originale. Motore e parti meccaniche totalmente spezionabili. Ha abitacolo perfettamente riprodotto, poltroncine, roll bar, cruscotto, completo di strumentazione di bordo del pilota e del navigatore. Cerchi da rally e pneumatici in gomma. Sorprendenti effetti sonori luminosi per un risultato ancora più realistico. Stare a bordo del mito e rivive la leggenda della Lancia Delta. Ovviamente all'interno ci saranno anche i fascicolini che ci saranno tutte quante le informazioni. Ci ricorda che la scala è 1 a 8 e le dimensioni del modello saranno 48 per 22 per 17. Gli effetti sonori luminosi per garantire massimo realismo. Allora andiamo a vedere quanto costa. Allora qui non ci dice nulla però invece qui sì la collezione si compone di 100 uscite. Prezzo primo uscita 1,99€, prezzo secondo uscita 5,99€, prezzo uscite successive 11,99€. Quindi ragazzi saranno 11,99€ per 98 uscite più 1,99€ più 5,99€. Sapete che queste collezioni costano tanto, ci vuole anche tantissimo per farlo, più o meno si parla di 3 anni. Quindi ragazzi dovete essere molto costanti su questo, non c'è alcun dubbio. Comunque la seconda uscita costarà 5,99€ e ci sarà il fascicolo più sedile pilota, due fanali di sinistra e due fanali di destra. Va bene, andiamo a guardare qualche informazione. Questo credo che sia il piano dell'opera. Ovviamente ci fa vedere la nostra lancia delta con tutte quante le informazioni. Vedete ci fa vedere che si può aprire praticamente tutto. Portabagagli, cofano motore, tutti e quattro gli sportelli e sono tutte cose completamente ispezionabili. Vedete il motore, sedili ergonomici e qua ci fa vedere altri dettagli. Ragazzi il modello è sicuramente uno spettacolo di che stiamo parlando. Comunque vediamo un po', questa è l'offerta speciale che con l'abbonamento vi darà diritto a un po' di sconto. Avrete anche il portachiavi, il raccoglitore per i fascicoli, il borsone weekend e il cappellino. Questi con i loghi Martini Racing. In più con 1,50 euro in più a uscita riceverete anche la teca. Eccola qua. Per esporre la vostra lancia. Questo è il fascicolino, volevo dargli un'alerta abbastanza veloce. Ragazzi qua guardate che spettacolo la 037. Peraltro che state sintonizzati perché l'ho recuperata di una vecchia collezione. Molto presto ve la faccio vedere. Questa è la S4, guardate che spettacolo di auto. Vabbè raga, quando si parla di lancia delta si parla sempre di roba veramente clamorosa. Siamo proprio al top per quanto riguarda Motorsport e per quanto riguarda anche i nostri colori italiani. Va bene? Allora ragazzi qui abbiamo anche le istruzioni. Adesso noi andremo a montare, ragazzi, sono praticamente quattro viti in croce. Quello che però mi interessa sicuramente molto vedere è la qualità. Perché poi sapete che è importantissimo, no? Quindi adesso andiamo ad aprire qua la carta così possiamo toccare per mano il cofano motore. Vi dico ragazzi, il cofano motore secondo me io me lo metto proprio in vetrina perché è proprio spettacolare. Poi con i colori martini sapete che è proprio trasuda racing. Allora andiamo a vedere il contenuto della scatola. Abbiamo queste griglie, come ci aveva già annunciato, sono completamente in plastica. Come vedete si possono piegare perché appunto, ripeto, sono plastica. Poi abbiamo le viti, eccole qua. E questo è il cofano della nostra lancia. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire? La qualità sembra abbastanza palese. Le decals sono perfette, sono proprio, sembrano verniciate, anzi probabilmente lo sono. Sono veramente uno spettacolo, guardate che perfezione. Quindi tanta roba anche il logo lancia. E che gli vogliamo dire? Qui abbiamo anche i ganci per il cofano motore, belli. Sono stati colorati anche questi abbastanza bene. Qui sotto invece ovviamente abbiamo la parte posteriore. Adesso le andrò ad attaccare, ragazzi. Sono queste qui praticamente, queste griglie che vanno appunto appoggiate al di sotto del cofano motore. Vedete? Eh, ragazzi, bella è bella, eh. Se vi dico che non sono tentato sarebbe una bugia. Sicuramente sarebbe bello intraprendere questa avventura. Però, come detto, mi ferma tanto il fatto che non è proprio quella mia preferita. Ok? Fosse stata lei o proprio sarei andato dritto proprio senza neanche fermarmi. Effettivamente qui ho un po' paura, no? Perché queste collezioni sono veramente importanti. E credo che bisogna essere convinti al 100%. E il modello in questione deve essere proprio il tuo preferito. Insomma, altrimenti non credo che poi possa valer la pena. Ragazzi, questo è tutto. Come sempre, fatemi sapere con un commentino qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutto e non riuscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate like. HF integrale, mi raccomando. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se avete intenzione di farla tutta la collezione, se siete dubbiosi come me. Tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento domani o al massimo dopo domani, perché andiamo a scoprire il Turbo Star, sempre di casa a Shirt. Voi restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Lancia Delta HF integrale è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao. Ciao.